Oggi in Edicola, Rassegna Stampa In Taglio Alto si parla dell'evento, il Capodanno di Rimini in Piazzale Fellini sulle note di Biagio Antonacci Fotonotizia di centropagine dedicata al ritorno della sindaca di Riccione Angelini, la donna che vinse due volte il titolo scelto dal Carlino Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar Daniele Angelini torna sindaco della Perla Verde a 141 giorni dall'annullamento delle elezioni Giustizia è fatta, ora dobbiamo pedalare Lega sconfitta ma non pentita, rimpasto in vista In spalla armato di coltello rapina parafarmacia in Via Praga, è la quindicesima volta Al Rimini Calcio il centro sportivo nell'ex area Ghigi, l'affidamento E poi in Taglio Basso, Sant'Arcangelo, miracolo di San Martino, riapre il ponte, addio file E a Cattolica, tifosi violenti e razzisti, altra stangata, disordini dopo la partita col Civitella Il vicepresidente Cervelleri dice non ci sto Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna Sul corpo tracce di DNA un mese fa l'omicidio di Pierina Paganelli I reperti analizzati solo dopo l'iscrizione di uno o più nomi nel registro degli indagati Una telefonata di Loris a Giuliano rivela i rapporti tesi in famiglia Anche in questo caso la fotonotizia di centropagine dedicata a Riccione Angelini di nuovo sindaca di Riccione, la svolta, ritorno in carica Questo è il titolo scelto Economia, Ermeti, Fiera, chiediamo voli di linea Il presidente tracce il futuro partendo da Aeroporto e Alleanze Il presidente IEG, Maurizio Ermeti, disegna il futuro della Fiera Partendo dal ricordo di Lorenzo Cagnoni Le prossime tappe del Colosso chiamano in causa gli ampliamenti sia a Rimini sia a Vicenza Un auditorium per i grandi eventi musicali Quindi le occasioni di alleanza e fusioni E infine i rapporti con l'aeroporto e la necessità di voli di linea Mal tempo, crolla un appino secolare Oggi nuova allerta Calcio, tifosi, altra multa Il Cattolica sbotta, l'evento Biagio Antonacci star del Capodanno Biagio Antonacci sarà il protagonista del concertone di Capodanno Esultano le categorie Porterà tantissimi turisti E ancora Exaria Ghigi Palla alla Rimini Calcio Il rilancio dell'area E poi Bellaria, rapinato e picchiato Noto albergatore In taglio alto ci sono due richiami di sport Uno di culture e spettacoli per lo sport Calcio di serie C Il Rimini si prepara per un novembre da paura Sei gare in venti giorni Per il basket di A2 Riviera Banca la sconfitta con Cento Brucia ma domani si torna già in campo E poi Danza alla Galli con gli Eili Secondo per quanto riguarda cultura e spettacoli Restiamo sulle pagine del Corriere Romagna Andiamo nelle pagine interne a vedere appunto le pagine dedicate al ritorno di Angelini a sindaca di Riccione Il voto contestato a Riccione ribaltato il verdetto del Tar per il Consiglio di Stato Le elezioni sono valide L'Angelini torna in carica Per i giudici le irregolarità emerse non possono essere considerate sostanziali e talmente gravi da inficiare il risultato elettorale Irregolarità puramente formali Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar Daniele Angelini torna a sindaca di Riccione E' stata accolta la richiesta presentata dalla coalizione di centrosinistra contro l'annullamento delle elezioni del giugno del 2022 Su ricorso presentato dalla Lega 23 pagine che hanno riportato le lancette indietro al 12 giugno dell'anno scorso Quando Riccione venne eletta al primo turno la candidata a sindaco Angelini Che conquistò 8.378 voti validi 48 in più del 50% Ossia 16.658 preferenze Prepara già i bagagli la commissaria prefettizia Rita Stentella Giunta la scorsa estate Se non è colpo di scena poco ci manca Non alterata la volontà popolare Riscontrata l'assenza di elementi Anche solo indiziari sintomatici di una possibile alterazione o compromissione del voto Diformità di minima rilevanza per i magistrati Le irregolarità emerse in sede di verbalizzazione Non possono condurre all'annullamento dell'elezione Alleanze a D e rimpasti ma Riccione col cuore assicura sostegno alla giunta Si cambia a rene consiglio Gli scenari sono tutti aperti La lista civica Riccione col cuore ci sarà Con la consigliera Federica Torsani Si era appaventato infatti il rischio del disgregamento della compagine Fatto smentito dalla stessa Torsani che dice Non siamo un partito politico ed è chiaro che in una realtà civica ci siano delle dinamiche non sempre condivise Spiega ma il dialogo non è mai mancato ed è stato costante Abbiamo continuato a confrontarci sostenendo il programma che abbiamo sostenuto Io sono in consiglio e sarò portavoce delle istanze della lista Nella politica è normale che ci sia una civile dialettica Ora però c'è una priorità Viene prima di tutto il benediccione Accantoniamo le polemiche perché la città ha subito una ferita enorme E subirà le conseguenze Ora conclude Dobbiamo pensare a pedalare Pertanto da parte mia non metterò mai i bastoni tra le ruote Ma sarò la portavoce di una lista che appoggia la maggioranza E vuole essere propositiva Bonaccini ha vinto la democrazia Agnassi esalta la forza della sindaca Dopo una lunga battaglia legale Che ha visto Daniele Anginini lottare per difendere il mandato Conferitole dei cittadini di Riccione La decisione del Consiglio di Stato ha ribaltato quella del Tar E arriva da tutto il PD Il plauso e l'augurio di riprendere il lavoro iniziato Con entusiasmo alla sindaca La sindaca dice giustizia è stata fatta Ora subito al lavoro per gli eventi Il voto contestato a Riccione Ribaltato come ha detto il verdetto del Tar Quindi terza pagina dedicata a questo tema Dalle Corriere Romagna di oggi Già nella giornata odierna In programma un primo confronto con Giunta e Coalizione Ho appreso la notizia Mentre ero in ufficio Sono felice per la città e per i cittadini La stoccata agli avversari Spero che in questi mesi Si siano resi conto del danno che hanno arrecato Adesso non possiamo perdere altro tempo prezioso La grande accusatrice dice Rifarei tutto Scelta coerente e coraggiosa per gli elettori Morrone Rispettiamo la decisione dei giudici Ma la Giunta ha mostrato gravi limiti e carenze Dopo la sentenza la consigliera comunale della Lega e segretaria del Carroccio per la provincia di Rimini Elena Raffelli commenta così la sentenza del Consiglio di Stato Che è andata contro il ricorso presentato rispetto al risultato elettorale delle ultime amministrative Siamo certi di aver seguito la strada giusta con coraggio senza ipocrisie Lo dovevamo gli elettori e la nostra coscienza L'intervento è partito per fugare i tanti dubbi sulla correttezza delle operazioni di voto Poiché il rispetto della volontà popolare è un principio che difenderemo sempre Andiamo a riprendere adesso quella che è la notizia d'apertura dei quotidiani di oggi Ovvero il giallo di via del ciclamino sul corpo e gli abiti di Pierina Isolate tracce di DNA a giorni i primi indagati I profili genetici saranno esaminati dalla medicina forense di Ancona Non sarà invece possibile stabilire se l'assassino era un uomo o una donna La notizia conferma un ruolo importante per la soluzione del giallo sulla morte di Pierina Paganelli Assassinate esattamente un mese fa la sera del 3 ottobre Al rientro dal martedì di preghiera nella casa del Tempio dei testimoni di Geova E arriverà degli esami che saranno eseguiti ad Ancona e Roma Nel laboratorio di medicina forense del Politecnico del Capoluogo Dorico Attendono infatti di essere esaminate le tracce di DNA Che sono state repertate sul corpo e sugli abiti della pensionata Uccise con 29 coltellate Trattandosi in molti casi di accertamenti irripetibili I microscopi per forza di cose saranno accesi solo nel momento in cui Il nome di qualcuno sarà scritto nel registro degli indagati Della procura di Rimini dal pubblico ministero Daniele Paci Voltiamo pagina L'intervista a Maurizio Ermeti, presidente di IEG Nuovi padiglioni, voli di linea e alleanze Ci servono collegamenti con hub importanti Il successore di Cagnoni dice ancora Progettiamo un auditorium per 20.000 persone Che colmerà una carenza del territorio Potendo funzionare da contenitore per i grandi eventi Grazie alla quotazione in borsa siamo diventati ancora di più una società migliore Il mercato se ne accorgerà Non importa se lo faccio per 6 mesi o per 10 anni Il mio impegno è quello di fare andare avanti velocemente la società E ancora riprendiamo altre parti del suo virgolettato Per ampliare il nostro business abbiamo necessità di rotte Che colleghino Rimini con gli hub europei più importanti E infine ai collaboratori ho spiegato chi sono Cosa ho fatto nella mia vita senza alcuna pretesa Di essere amato o accettato solo perché è presidente Voltiamo pagina Capodanno tutti i passi per Antonacci Porterà a Rimini tantissimi turisti La presidente dell'Aia Rinaldi Si dice finalmente il ritorno alla spiaggia Dopo tre anni causa covid Indino di Confcommercio Campagna promozionale rapida Per dare modo di scegliere con anticipo Il concerto ma non solo Il mare deve essere sempre al centro della proposta turistica Per cui bene questa spalmatura diffusa degli eventi Visite Rimini Prenotazioni già migliori rispetto al 2022 La direttrice dell'Oberti Dopo l'ufficializzazione del cantante Le richieste non potranno che crescere Così appunto Caroli dell'Oberti Sarà un capodanno tutto da gustare coloriminese Con festività natalizie così lunghe E cariche di eventi da far dimenticare Almeno per sette giorni Quelli della settimana delle sette lune Quella senso di noia Sempre in agguato in turisti e viaggiatori Presenza di turisti Settembre con il botto per la riviera Registrato un più 8,5% L'assessore regionale Corsini dice Riusciremo a recuperare ancora Settembre con il botto per la riviera Con presenze cresciute dell'8,5% Ed arrivi che segnano un più 19,6% Rispetto al 2022 Numeri quali riferiti dall'ufficio statistica Della regione che superano persino i livelli Pre-pandemici Più 5,8% E più 16,8% Rispetto alla 2019 Un trend che si registra In tutta l'Emilia Romagna E che spazza via le ultime ombre Dell'alluvione I cui effetti parevano destinati A gravare come una spada di Damocle Sull'intero comparto Emergenza abitativa Tassa sugli affitti brevi Un altro aumento Così aiutiamo le famiglie A trovare casa Ulteriore scatto della liquota Dal 4 al 5% Gianfreda dice Rimini utilizzerà tutti gli strumenti A disposizione Così appunto L'assessore Gianfreda La strategia di Palazzo Garampi Incremento della tariffa Sino a 2 euro Per i pernottamenti in unità abitative E anche per quelle abitazioni gestite In forma imprenditoriale Il rinnovo delle concessioni Spiaggia Bari Approva la proroga al 2024 L'assessore Frisoni dice L'anno in più Assieme alle gare La sindaco De Caro E anche il presidente De Lanci E la sua giunta Già deliberato La nuova scadenza Lo stato dell'arte Il 31 dicembre Scadono le concessioni E come stabilito Dalla Bolkestan I rinnovi Devono passare Attraverso bandi È una strada È una strada intrapresa Dai sindaci Delle Mille Romagna Ma Antonio De Caro Primo cittadino di Bari E presidente nazionale Del Lanci Gioca d'anticipo La sua giunta Nei giorni scorsi Ha provato la delibera Grazie alla quale Le concessioni di maniali Sono valide Fino al 31 dicembre Del 2024 Un colpo di acceleratore Che il settore balneare Ha colto con molta speranza Dato che De Caro In Italia guida All'Associazione dei Comuni La città che verrà Ex area Ghigi Vince la Rimini Calcio Di Salvo Si fortifica Il nostro progetto La Responsible Spa Di Campobasso Si aggiudica La riqualificazione In via provvisoria La Rimini del calcio Guarda in avanti E pensa in positivo Questo dopo L'aggiudicazione provvisoria Alla Responsible Spa Di Campobasso Società di Stefania Di Salvo Presidente della squadra Biancorossa Della gara per l'affidamento In concessione Dell'attività Di progettazione esecutiva Di realizzazione E gestione Del centro sportivo Nell'ex area Ghigi Che ormai da anni Versa nel degrado In attesa di rilancio Il prossimo passo L'assessore Maresi Dice Attendiamo adesso La proposta Per lo studio Di fattibilità Per la realizzazione Del nuovo stadio Quello che succede L'intervento riguarda Il completamento Di sette campi da calcio Quattro Da undici giocatori Sia in erba Sia in sintetico Due da sette E uno da cinque Avvolto coperto Armato di coltello Rapina Una parafarmacia Il titolare dice Sono qui da diciassette anni E siamo arrivati A quattordici Quindici Quindici Tra rapine fatte Tentate Furti Più o meno Riusciti Sono qui da diciassette anni E con quest'ultima Siamo arrivati A quattordici Quindici Tra rapine commesse Tentate Furti Più o meno Riusciti Non sono certamente contento Ma questa è la storia A parlare Dottora Giorgio Gattè Titolare della parafarmacia Armonia e salute Di via Praga Dove ieri pomeriggio Ha fatto eruzione Un rapinatore solitario Maltempo Vento a quasi 90 km orari Si spezza Pino secolare In via Roma I vigili del fuoco Impegnati per ore Nelle operazioni Di messa in sicurezza Traffico bloccato In mare A onde alte Fino a 8 metri Appello Alla sicurezza Della capitaneria Allerta Prolungata Ragino mancato Al presidente Di Confcommercio Papà Sono nei guai Tentata truffa Indino Salvato In extremis Finta richiesta D'aiuto Per avere 2500 euro Per fortuna Mia moglie E' stata più razionale Così appunto Commenta Gianni Indino Presidente di Confcommercio Di tratto in foto Un aiuto Agli altri Per non cascarci Ho raccontato L'accaduto Perché serve a tutti Mi auguro Che queste parole Siano utili A non far accadere Altri Nel Tranello Voltiamo Ancora pagina Andiamo Nelle pagine Di Riccione Polizia locale Falso diplomatico Maltese Bloccato Su una Maserati Sequestrata Dal fisco Dopo i controlli All'ambasciata Denunciato Riccionese Per falsa Attestazione A pubblico Ufficiale Il bilancio Di Halloween Stragi Stragi Di patenti Quattro uomini E due donne Trovati Ubriachi Fradici In due auto Presenti Possessori Di droga Il dottor Arangio Va in pensione Lausle Gli ha negato La proroga Costretto Ad appendere La camice Nonostante Avesse chiesto Di rimanere In servizio Siamo a Coriano Il dottor Giuseppe Arangio Medico di base A Coriano Va in pensione Un passo Che avrebbe preferito Non compiere Il suo desiderio Era quello Di continuare A esercitare La medicina Aveva chiesto Una proroga Così come Molti altri Professionisti Ricordiamo Il caso Del dottor Loris Tomelli Medico di Fontanelle A cui è stata Concessa La possibilità Di prolungare L'incarico Avanti Con la festival Del sole Intesa Trovata In extremis Nel 2024 Resta A Riccione Raffaelli Delle Reghe Dice merito Del commissario Delle categorie E degli imprenditori Quindi controordine Il festival Del sole Non si trasferisce Più a Rimini Ma resta Riccione Anche per L'edizione 2024 Che si terrà Dal 30 giugno Al 5 luglio Andiamo Nelle pagine Di Cattoliche Della Valconca Calcio Cattolica Insulti E minacce Altri mille euro Di multa Alla Cattolica Calcio Ulteriori sanzioni Dopo la gara Con il Civitella Il vicepresidente Cervellieri Sbotta I nostri tifosi Non sono né violenti Né razzisti Messe in prova Per cori razzisti Nell'ultima partita Non è accaduto nulla Di quanto contestato Alla tifoseria Chiesto un incontro Al comitato regionale Appunto questo Nella lettera aperta Scritta da Cervellieri Voltiamo pagina Andiamo nella pagina Di Bellaria E della Valmarecchia Bellaria Gemmarina Albergatore 87enne Rapinato E pestato a sangue Da due balordi Ennio Quadrelli Stava rientrando All'hotel Majestic Quando è stato colpito Alla nuca Con il calcio Di una pistola Nonostante avesse consegnato 200 euro E il cellulare Fallito L'assalto Alla cassaforte Il ponte sul Marecchia Riapre A doppio senso Di marcia La sindaca Alice Parma Commenta Abbiamo fatto Il possibile Per limitare Al massimo I disagi Causati dai lavori Dopo cinque mesi Il ponte sul Marecchia Riapre Sarà percorribile A doppio senso Di marcia Durante la fiera Di San Martino Si avviene La conclusione Entro i termini Previsti I primi tre stralci Delle cantiere Per la realizzazione Del percorso ciclopedonale Ed il consolidamento Del ponte San Marino L'Anis Sul decreto Cogenerazione Non c'è traccia Di incentivi Da battaglia Alle emissioni Di anidride carbonica Pronti A investire Negli impianti Ma rispetto all'Italia La direttiva Arriva Con 19 anni Di ritardo La pagina Della Valle del Rubicone Alla coppia Della cocaina Condanne contenute In fuga Tra la riviera E Borghi Lei arrestata Subito Lui scappato Fusato spray Al peperoncino In carcere Dalla 7 ottobre Ora escono Andiamo poi Nelle pagine sportive Per parlare Di Rimini Rimini Un novembre Da brividi Sei partite In appena 20 giorni Il recupero Con il Sestri Sarà giovedì 16 Prima e dopo I viaggi di Pescara E Olbia Nel conto Anche la partita Di Coppa Italia Contro il Perugia In programma Il nove E davvero Sicuramente Sarà Un mese di novembre Ricco di gare La gara Con la SPAL Sarà arbitrata Da Crestini Di Siena Intanto Se infortunati Gravi E Rao Squalificato SPAL Ai minimi termini Questa sarà La squadra Che si presenterà Al Romeo Neri Lunedì sera Per la partita Appunto Con i Biancorossi Chiudiamo Con questa notizia Il Corriere Romagna Ci fermiamo Per una breve pausa Dopo la quale Sfogheremo insieme Anche le pagine interne Del resto del Carlino Restate con noi Oggi in Edicola Rassegna Stampa Oggi in Edicola Rassegna Stampa Di nuovo insieme Per sfogliare Le pagine interne Del resto del Carlino E allora Si parte dal ribaltone Angelini torna sindaca E la Consiglio di Stato Errori in 26 schede Le elezioni sono valide Per i giudici Non c'è stata la volontà Di alterare il voto Si è trattato Di meri sbagli Nella verbalizzazione Che non inficiano Il risultato Brinda il PD Bonaccini Il governatore Della regione Emilia Romagna Dice ha vinto La democrazia I segretari Sacchetti e Santi Ora testa bassa E pedalare Giustizia è fatta La festa in municipio È la fine Di un incubo Gabbracci Con gli assessori Poi l'incontro Con la commissaria Le elezioni della politica Andrea Agnassi Deputato del PD Dice Danila Esce da questa assurda vicenda Da donna Che sa affrontare Le vicende complicate Con lucidità Forza e gentilezza Dopo questa sorta Di congiura Si aprono nuovi Rizzonti Per Riccione Che torna ad essere Riferimento di buon governo E del turismo Chi sale Chi scende Il rimpasto Di giunta Si riapre La corsa Per la poltrona Al turismo Nelle prossime settimane La sindaca dovrà Rimettere mano Alla squadra E all'assetto Di dirigenti PD in pressing Le manovre A palazzo Angelina è tornata In sella Ma cosa succede Da questa mattina In municipio Riccione La squadra Resterà la stessa Il PD Reclamerà più spazio Ci sarà un nuovo Valzer di dirigenti Se qualcosa accadrà Non sarà oggi Ma nelle prossime settimane La sindaca dovrà Mettere mano Ad un organigramma Che nel primo anno Di governo Ha mostrato parecchie falle La giunta potrebbe Rimanere più o meno La stessa Anche se fonti interne Indicano Gianluca Garulli A un passo Dalla porta di uscita Interrotti da giugno I rapporti Con Angelini Il primario assessore Ha visto anche Parte del suo partito Riccione col cuore Passare all'opposizione Elena Raffaelli Della Lega Era doveroso Fare ricorso Rispettiamo La sentenza Angelini Ha già fatto troppi danni Era meglio Rivotare Voltiamo pagina Il delitto Di via del ciclamino Abbiamo visto È stato il tema D'apertura Le tracce di DNA Su corpo e vestiti Di Pierina Appunto sono state La notizia d'apertura Di due quotidiani Di oggi Questioni di famiglia Loris rimproverò Giuliano In un audio fiume Non sputare sentenze Se giorni prima Del delitto Il fratello di Manuela Aveva inviato Un messaggio Nel quale Redarguiva Il cognato Non giudicare Gli altri Fratelli Testimoni La replica Saponi Rispose Dovrei tornare a casa Il 10 ottobre I tratti Del vecchio me Prego Si mi assomigliano Sempre Meno DNA Sul corpo di Pierina Isolate Nuove tracce Questo appunto È il tema D'apertura Come detto Di oggi Trovato materiale Biologico Anche sui vestiti Ora le analisi E la comparazione Le sfide del turismo Capodanno Biagio Antonacci In concerto Sarà lui Il protagonista Dello show In Piazzale Fellini Che torna Dopo 4 anni DJ Spettacoli E tanti altri eventi In centro Rimini Festeggerà il Capodanno Insieme a Biagio Antonacci Sarà lui Il protagonista Del concertone La sera del 31 dicembre In Piazzale Fellini Dove tornerà A brindare Dopo 4 anni Fu quello Di quest L'ultimo concerto Di Capodanno A Marina Centro Tassa di soggiorno Più cara Rimini Per ora Corre da sola Gli altri comuni La congelano Valutazione in corso A Cattolica Zero aumenti A Misano E Bellaria Continuerà a non applicarla Giovannino Montanari Dice Con il rincaro Dell'imposta Verranno in vacanza Qui Meno anziani Non sarà una stangata Per i turisti Che verranno a Rimini Ma comunque L'aumento Della tassa di soggiorno Deciso da Palazzo Garampi Si farà sentire In particolare Per alcuni mercati Come quello Del turismo Della terza età L'esenzione Dell'imposta Verrà infatti Solo per gli over 65 Che viaggiano Con gruppi organizzati Dagli enti pubblici Locali Soggiorno in hotel Con tre o meno stelle Le richieste Fiavet Con flavoro Aboliamo la tassa Per tutti i turisti Over 65 Federalberghi Invoca Più coinvolgimento Intanto Il bilancio Di settembre È sicuramente positivo Settembre d'oro Turisti in crescita Del 16% Nei primi nove mesi Quasi 14 milioni Di presente Un settembre d'oro Per la riviera La conferma Arriva dai dati Istat Diffusi ieri Dalla regione Nel mese di settembre Si è registrato Un netto aumento Dei turisti italiani Nella nostra provincia Gli arrivi sono cresciuti Del 16,4% Rispetto all'anno scorso E del 12,1% Sul 2019 Le presenze Sono salite Del 6,5% Sul 2022 Ma solo Dell'1,9% Sul 2019 In crescita Anche gli stranieri Anche se con Percentuali più basse Gli arrivi sono aumentati Del 14,8% Rispetto alla 2022 E le presenze Del 6,5% E dell'1,9% Sul 2019 Tra i vari comuni E quello di Rimini A crescere di più Sia per gli italiani Sia per gli stranieri Nel complesso Settembre Gli arrivi di turisti Nel capoluogo Sono aumentati Del 18,9% E le presenze Del 18,2% Ma i numeri Del 2019 Restano lontani Voltiamo pagina Biancorossi Si piglia tutto Il Rimini Vince la partita Per gestire Il centro Ex Ghigi Soddisfatta La presidente Di Salvo Per la giudicazione Provisoria La nostra proposta Sullo sviluppo Dell'area Ha superato La prima fase Questo il suo commento Il progetto Prevede il completamento Della struttura Geniziata L'assessore Maresi Dice Attendiamo ora Lo studio Di fattibilità Di euro Immobiliare Per il nuovo stadio Appunto Si parla quindi Del Romeo Neri Siamo felici Che la nostra proposta Sullo sviluppo Del centro sportivo Abbia superato La prima fase Di verifiche Usa ancora Una certa cautela La presidente Del Rimini Stefane Di Salvo Ma ora più che mai Il centro sportivo Della Gaiofana Quello All'ex area Ghigi In stato di abbandono Ormai da anni È vicino Ad essere Ad avere Un nuovo padrone Che risponde Al nome Di Responsible Spa La società Di Campobasso Di proprietà Della presidente Di Salvo E del marito Stefano Petracca Si è infatti Concluso Nei giorni scorsi Come fanno sapere Da Palazzo Garampi La gara Per l'affidamento In concessione Dell'attività Di progettazione Esecutiva Realizzazione E gestione Del centro sportivo Automobilisti Violenti Troppa rabbia Al volante Crescono Le aggressioni L'esperto Dice Liti stradali In aumento Dopo la fine Della pandemia Nel mirino Giovani anziani E appartenenti Alle forze Dell'ordine Le cause Lo stress E i problemi Economici Sono tre fattori Scatenanti Ma incide anche L'uso Indiscriminato Del telefonino Sara Venerucci Dice Sono ancora sotto shock Danni ingenti all'auto Un uomo ha tentato di picchiarla Dopo l'incidente sfiorato A Viserba Tanti l'hanno chiamata ieri Dopo aver letto una notizia Dell'aggressione Sul lungomare di Viserba Ho ricevuto Grande vicinanza E solidarietà Tra quelli che mi hanno chiamato C'è chi mi ha rivelato Di aver subito Episodi simili In giro Per le strade C'è davvero gente Che non sta bene Sono ancora provata Da quanto è accaduto Allarga le braccia Sara Venerucci Martedì pomeriggio La 33enne Campionessa mondiale Di pattinaggio È stata aggredita Da un uomo Che dopo una banale Diverbio in strada Ha tentato di picchiarla E ha danneggiato L'assauta La colpa Della Venerucci Averla Aver sbandato Per guardare La figa Di nove mesi Che piangeva in auto Rischiando un incidente Fortunatamente evitato Con l'uomo Che poi l'aggredita Il vento spazza via Un grosso pieno traffico In Tilt In via Roma Rimini Anche oggi previste Forti raffiche Nel riminese Un albero secolare Collassato In pieno centro Rimini La strada rimasta Parzialmente chiusa E il traffico Rallentato E quanto accaduto Nella tarda mattinata Di ieri in via Roma A causa delle forti raffiche Di vento Che hanno spassato La riviera Costringendo i vigili Del fuoco Del comando provinciale A compiere diversi interventi Per rami caduti a terra E alberi pericolanti La situazione Di maggiore pericolo Tra quella avvenuta in città Si è registrata All'altezza del civico 23 di via Roma Quando un grosso pino Facente parte Del cortile Di una proprietà privata Si è letteralmente spezzato Ed è crollato in strada Sul posto E quindi accorso Una squadra Dei vigili del fuoco Ed è stato richiesto L'ausilio Dell'autogru Del comando di Forlì Per la rimozione del tronco Un intervento Non certo semplice Che si è protratto Per diverse ore Portando la chiusura Temporanea Delle vie Roma Tonti Gambalunga E anche di Corso Giovanni Ventitresimo Ennesimo assalto Alla parafarmacia La titolare È la quindicesima volta Armato di coltello Il movimento Ha rapinato Il locale di via Praga Riuscendo a fuggire Con l'incasso A Cattolica Razzismo e minaccia Altre multa Al Cattolica Due sanzioni da 1000 euro Una è stata sospesa Per presunti disordini Dopo la partita Col Civitella Il vicepresidente Cervelieri Commenta Non ci sto La fiera dei canarini Migliore in Europa Morciano Questo weekend Arriva l'evento Ornitologico Fringille Valconca Che ospiterà 2500 esemplari Voltiamo ancora pagina Andiamo nella pagina Di Bellare Di Sant'Arcangelo Fine dell'Odissea Riaperto il ponte Sul Marecchia Da ieri Si circola di nuovo A doppio senso Lavori accelerati Per evitare il caos Durante la fiera Di San Martino Caccia I baby vandali Di Verucchio Botte incendi E danni Durante Halloween La sindaca Sabba Fa denuncia Ai carabinieri A San Marino Nove cimiteri Sul Titano Ma nessun loculo vuoto Dal 2025 Si procederà Con l'estumulazione Per fare spazio Nei campi santi Chiudiamo Con questa notizia Il resto del Carlino Per dare rapidamente Un'occhiata Anche a quotidiano sportivo In taglio basso Notizie che riguardano Più da vicino Il nostro territorio La rinascita Deve ripartire La Cividale O ci saranno Riflessioni Sul gruppo E poi Pietrangeli Questo Rimini È più solido Per il calcio Di Serie C Il difensore centrale Sulle ali Dell'entusiasmo Dopo i due risultati Utili consecutivi Lunedì è stato Nostro ospite A calcio punto basket Pietrangeli Alza il muro Ora siamo più compatti Il giovane centrale Del Rimini Dopo l'inizio di stagione Tormentato Ripreso Posto al centro Della difesa Ma non abbiamo Ancora fatto niente Questo appunto Le sue parole RBR Con Cividale Sarà prova verità Vittoria O riflessioni Sul gruppo Con questa notizia Chiudiamo anche questo Si conclude qui La nostra rassegna stampa locale Ora linea nazionale Noi ci rivediamo Se volete Allo 8.30 Per il nostro Ikerotigi Mattina Intanto vi auguro Un buon inizio di giornata Oggi in Edicola Rassegna stampa Mai Buon inizio di dietro URI 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 Vi URI Rio URI